Comandante, è stato recapitato a lei con un messaggio intimidatorio, con una busta contenente un topo, lei è tranquilla e sicura? Ormai è diventata di dominio pubblico, sì, io assolutamente sereno e tranquillo, come ho già detto, la cosa non sconvolgerà minimamente il mio modo di fare, il mio modo di lavorare, continueremo a lavorare con la medesima determinazione di prima senza farci coinvolgere né farci turbare. Poi se è stata una brevate di qualcuno che... Questo non lo so, chiaramente ci sono tutti gli accertamenti in corso e poi saranno gli inquirenti a fare luce sulla vicenda. Naturalmente voi continuate a fare quello che fate, lo fate molto bene. Assolutamente sì, continueremo la stessa determinazione prima, anzi ancora di più.